Benvenuti a Palazzo Nicotera. Palazzo Nicotera, risalente alla Settecento, come potete vedere qui, diventa il trionfo dell'Effimero, ma il restauro è lontano. Vedete qui ci sono delle galiziane alle finestre, questo perché forse le galiziane sono terremotate, non hanno una casa, ma hanno solo le finestre. Ricordiamo che Palazzo Nicotera, con il terremoto dell'Ottanta, ha subito gravi danni a causa del sisma e da allora il restauro è diventato veramente una chimera, un qualcosa di molto lontano. Poi c'è qualcuno che pensa di teatralizzare il tutto. Ecco qui, con le galiziane alle finestre. Ecco, questo è Palazzo Nicotera. Ecco qui, Palazzo Nicotera. Come dire, non lo restaureremo più. Ma vi offriamo le galiziane, che non hanno niente a che vedere neanche con la nostra arte. Ecco qua, li vediamo che quasi quasi c'è pure un crollo imminente, quindi fra poco la galiziana viene giù. Ecco qua. Benvenuti a Mariano, nella città dove tutto diventa effimero. Ecco qui. E chi rivendica diritti, come il basolato, che dovrebbe essere, come dire, messo in posa, ha voglia di aspettare. Ecco qui, venite, 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 venite. Siamo a Mariano, siamo tra le galiziane ed è veramente bello uguale. Ecco qui, va bene.